Cari amici, benvenuti in una nuova riflessione fotografica che sarà un po' particolare, lo scoprirete fra poco. Analizzeremo un'immagine, un'immagine di Cindy Sherman che vedete alle mie spalle, magari qualcuno di voi già la conosce, però prima di analizzarla ti ricordo che il link ai corsi dallo scatto alla stampa Fine Art, il corso online bianco e nero Fine Art, lo trovi in descrizione al video, oppure se stai ascoltando questo podcast, stai assumendo queste riflessioni tramite il podcast, alla pagina ProMirule, se c'è proprio la sezione corsi, trovi tutti quanti le indicazioni, le informazioni necessarie per farti un'idea su se i corsi proposti, il corso dello scatto alla stampa, il corso bianco e nero Fine Art, sono interessanti e possono soddisfare le tue necessità. Detto questo, arriviamo alla riflessione di oggi, che mi è venuto in mente, penso se a voi piace, perché ovviamente i video che vado a proporre, ovviamente devono piacere in primis a me, devo ritenere utili e interessanti a me, ma ovviamente mi baso anche sul giudizio di tutti voi che vedete o ascoltate tramite podcast queste riflessioni fotografiche. Quindi se vi piace quest'idea, cioè di andare a riflettere su alcuni aspetti della fotografia, da un punto di vista tecnico e non solo, basandosi su un'immagine, andrò a riproporre questo format più volte, ok? Quindi voglio insomma sapere la vostra opinione. Allora, come vi dicevo, mi è venuta questa idea vedendo un'immagine di Cindy Sherman. Penso che tu la conosca, è insomma una fotografa, un artista, a mio avviso, secondo me il più corretto nel suo caso, prima di tutto perché è anche una pittrice, cioè partita come pittrice, è iniziata come pittrice, poi insomma si è dedicata alla fotografia, ormai è una fotografa molto conosciuta a livello internazionale, espone in grandissime gallerie come il MoMA, insomma e tante altre, quindi è un personaggio importante del mondo della fotografia, ha portato il genere dell'autoritratto a livelli davvero elevatissimi. Ed è particolare un po' come è nata la sua avventura, praticamente ai tempi in America, quando c'era insomma il movimento femminista, a lei venne l'idea praticamente di ricreare tramite fotografia gli stereotipi classici che gli uomini avevano sul mondo femminile. E praticamente quindi ironizzando su, o facendo riflettere su questi stereotipi tramite l'immagine, andava a uccidere in qualche modo gli stessi stereotipi, quindi era una forma di protesta tramite un stereotipo contro stereotipo, una sorta di via omeopatica, possiamo così dire, verso certi pregiudizi e certi approcci, insomma, della società americana, insomma, di qualche ormai decada fa. Quindi è iniziato in questo modo, poi ha portato avanti questo stile. La cosa interessante di Cindy Sherman è che le immagini sembrano post-prodotte all'inverosimile. In realtà lei è una bravissima coreografa, cioè c'è tantissimo lavoro di preproduzione, cioè prima dello scatto, quindi tanta attenzione a tutti i dettagli, e poi vengono appunto realizzate e scattate. Insomma, la Sherman è partita nel mondo dell'analogico, dove non c'erano chiaramente grandi possibilità di manipolazione in cavolo scuro. Quindi grande capacità della Sherman. lo stile è praticamente rimasto abbastanza simile nel tempo, cioè le interpretazioni sono cambiate tantissimo, a volte più spinta, a volte meno spinta, in termini di anche coreografia, cioè di interpretazione. Sicuramente la foto che ti farò vedere oggi, che stai vedendo al sole a me spalle, è praticamente una foto della serie Untitled, cioè la serie senza titoli, insomma sono delle immagini che in qualche modo ripescavano all'interno della visione un po' cinematografica degli anni 60. Anche insomma il look si può, in qualche modo ce lo fa capire. E in effetti le foto che si possono vedere all'interno di questa collezione potrebbero essere tranquillamente dei fermo immagini, quindi solo un fotogramma della pellicola cinematografica che è proprio un fermo immagini, quindi è uno stile davvero molto particolare. Ok, nella foto si vede bene, insomma penso che si capisca abbastanza bene il tema da cui questa riflessione, da cosa mi è nata, insomma sull'angolazione in fotografia, perché effettivamente a volte viene dato per scontato, l'angolazione da utilizzare. Molti utilizzano le regole classiche, tutti quanti penso che sanno che per un primo piano stretto bisogna allineare l'ottica alla punta del naso, per un piano americano al petto, per una figura intera alla vita, insomma queste sono diciamo le regole, quelle classiche che immagino anche tu conosca, insomma queste sono un po' le regole standard, così come se tu fotografi un bambino, è importante abbassarsi al loro livello degli occhi, insomma sono regole piuttosto classiche, ma a parte le regole classiche, poi ovviamente ogni regola può essere infranta, può essere diciamo trasformata per comunicare in maniera qualcosa di diverso rispetto appunto all'approccio standard. In questo caso nella foto che vedi di Cindy Sherman è evidente come questa angolazione dall'alto verso il basso fa apparire la ragazza, diciamo in questo caso la Sherman si è diciamo vestita, ha indossato gli abiti di una studentessa, fa apparire la studentessa come una preda di un potetico aggressore, che ovviamente non c'è all'interno del fotogramma, ma ce lo fa supporre tramite appunto l'inquadratura, l'interpretazione appunto della Sherman. Quindi in questo caso l'angolazione rafforza tantissimo l'esperienza emotiva e visiva che si fa insomma guardando l'immagine. Ti faccio vedere altre due fotografie di altri fotografi importanti che hanno utilizzato invece l'angolazione in maniera diversa. Ok, in questo slide, in queste tre immagini, come vedi abbiamo triangolazioni diverse, utilizzate da fotografi diversi, nella foto a sinistra di Keizo, lui utilizzava, fatta a Berlino, utilizzava appunto l'angolazione un po' di tre quarti e dal basso verso l'altro, in maniera tale che le persone apparissero diciamo degli aggressori, quindi in questo caso saremmo noi, gli osservatori, le vittime. Invece una fotografia di Thomas Ruffo, un altro fotografo importantissimo, famosissimo, che utilizza appunto questa prospettiva estremamente lineare, insomma molto diretta, un po' quasi da foto segnaletica. Ecco, quindi già guardando queste tre angolazioni, una diretta di Thomas Ruff, l'altra di Keizo invece dal basso verso l'altro e poi dall'alto verso il basso della Sandy Sherman, ci fa capire come queste tre foto ci danno, ci restituiscono un vissuto emozionale completamente diverso, sul quale secondo me è bene riflettere e valutare quando poi andiamo a comporre le nostre immagini. Ok, se avveniamo dal punto di vista un pochino più tecnico la foto di Sandy Sherman, allora è chiaro che il soggetto principale è ovviamente la studentessa, il punto però focale, il punto di interesse sono gli occhi e lo sguardo, quindi grande interpretazione anche da parte di Sandy Sherman, quindi insomma anche l'illuminazione da grande risalto al volto, puoi vedere che c'è una main light sulla sinistra della ragazza, la destra diciamo da dove guardiamo e una fill light sulla sinistra rispetto a come stai guardando tu l'immagine. Quindi insomma c'è un contrasto abbastanza evidente dal punto di vista dell'illuminazione, lo si capisce se tu guardi le catch light sono quelle puntini bianche che si vedono all'interno dell'occhio ti fanno capire un po' che tipo di illuminazione è stata utilizzata, quale schema, la luce come puoi vedere è abbastanza, è un po' dall'alto verso il basso e crea un'ombra abbastanza dura, quindi non è particolarmente morbida, questo per rafforzare questa sensazione anche un po' spiacevole, no? Nel vedere queste immagini, questa situazione dura di vissuto anche di pericolosità che sta vivendo la ragazza, anche la qualità della luce come puoi vedere è sul ciano verdognolo, quindi insomma un po' anche questo un po' fastidioso, ci crea una sensazione di disagio ed è stato rafforzato, utilizzato molto bene da Cindy Sherman all'illuminazione e poi da puntista compositivo veramente la Sherman ha fatto insomma un lavoro eccezionale, intanto tutta questa diagonale che percorre dagli occhi con tutto il corpo della ragazza, poi la costruzione è una sorta di triangolo, insomma da questa diagonale poi andiamo praticamente alle mani e a livello visivo si ricollega praticamente agli occhi, come puoi vedere insomma dalle linee rosse che ti ho marcato, quindi una costruzione triangolare che è ricreata diciamo parallelamente in più grande, in versione più grande con le linee che sono una parte di questa specie di parquet, insomma di pavimento in legno e poi con la diagonale appunto della fine di questo pavimento in legno lo vedi insomma verso il bordo dell'immagine, quindi a creare ancora un altro triangolo che racchiude, che in qualche modo raccoglie la studentessa, insomma la Cindy Sherman, quindi dal punto di vista compositivo molto interessante, uno scatto tutto molto dinamico dal punto di vista dell'inquadratura, il momento, la scelta del momento è perfetta, in questo caso la scelta del momento è data proprio dalla tensione, della gestualità e della mimica facciale da parte di Cindy Sherman, sulla luce ne abbiamo parlato, insomma anche sulla composizione, quindi grande attenzione alla costruzione dell'immagine, anche nei dettagli ti faccio notare come i capelli che diventano quasi delle linee portano praticamente agli occhi, quindi veramente grande bravura, i capelli un pochino bagnati come se fosse, come se avesse corso per sfuggire un po' all'aggressore, quindi grande immagine, grande capacità espressiva e comunicativa di Cindy Sherman, ripeto, questa immagine fa parte della serie Untitled. Ok, mi auguro che queste riflessioni che come ti ho detto nascono, nasceranno, insomma se vi piacciono, da delle immagini sulle quali riflettere sul tipo di composizione creata, sul senso della fotografia, su alcuni magari principi tecnici, sull'uso della luce, quindi proporrò diverse immagini di fotografi più o meno conosciuti sulle quali magari così riflettere, dedicare quei 15 minuti alla nostra passione per attivare un pochino il cervello. Se ti piace l'idea fammelo sapere, lascia un commento, metti un like e soprattutto mi farebbe molto piacere se hai voglia di aiutarci iscrivendoti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ricordo che il link al corso, i corsi online dallo scatto alla stampa Fine Art e il corso su Bianca e Nero Fine Art li trovi sempre in descrizione al video oppure se vai sul nostro blog promirrors.it trovi la pagina corsi insomma e lì puoi facilmente avere tutti i dettagli. Io ti ringrazio, ci vediamo alla prossima riflessione. Ciao! 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 Ciao!